Nella gestione strategica delle entrate è fondamentale il ruolo significante che la tassazione immobiliare crea e reca ai comuni. Ecco che è importante conoscere in maniera indicativa come analisi ricognitiva preliminare la differenza tra quanto effettivamente il gettito che i contribuenti dovrebbero versare e quello che effettivamente versano. Ecco quindi l'importanza di conoscere il tax gap cosiddetto come algoritmo per determinare queste differenze e per capire quale ricette intraprendere e sviluppi per essere sempre più performanti e avere sempre da parte dell'ente la certezza delle entrate nell'anno di competenza. Ecco questo quello che oggi offre come possibilità Anci Lombardia all'interno di Rete Comuni.